Che cosa mi fa sentire vivo? Non si può descrivere a parole ciò che solo il corpo può sentire. Il calore del sole del mattino, il profumo dell'adrenalina, il suono della vita, la sensazione di totale abbandono che il mio corpo prova mentre volo oltre i miei limiti. La tensione prima della gara, la paura, l'eccitazione, il brivido. E poi... Quel momento prima del semaforo in cui il tempo di un tratto rallenta. Ogni fibra del mio corpo tesa è pronta a scattare. Il cuore martella e il respiro mi alimenta. Quell'infinito attimo prima del semaforo in cui il tempo e lo spazio perdono di significato. E poi... La vita ha inizio. Questo è ciò che mi rende vivo. Questo è ciò che amo. Questo è ciò per cui sono nato e per cui lotterò finché avrò energia in corpo. Eppure la gente continua a chiedermi perché lo fai. Perché tutti questi sacrifici? Perché tutto questo sudore? Perché tutta questa fatica per rischiare la vita ogni weekend? Vaglielo a spiegare che quando salto in sella e spalanco il gas, rischio solo di vivere. Fraccetti che è partito molto forte e si porta al comando di questa gara guerriera. è partito molto forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti